Il Comune di Nocera Superiore continua il lavoro di riqualificazione urbana di alcune aree della città, cercando di abbattere per quanto possibile i tempi di realizzazione. Tra le prossime aree che verranno interessate da grandi interventi, la frazione di Taverna, Croce e Pareti Pucciano, dove sono previsti lavori di rifacimento della pubblica illuminazione, oltre alla creazione di sottoservizi e aree adibite al verde e tanto altro. Proseguono i lavori e invitiamo tutti i nostri concittadini, come sempre, ad avere pazienza, perché tra la programmazione, la progettazione e la realizzazione dei lavori passa un po' di tempo. Al netto dei tempi burocratici, però, credo che lungo l'arco di questo anno avremo, oltre ai cantieri che già sono in avvio e proprio questa mattina abbiamo presentato anche via Vincenzo Russo, ci sono gli altri in corso, perché ci scrivono a piedi pagina, quando inizia l'intervento su un tratto, sull'altro, ci sono vari interventi in itinere. Quelli più ampi e importanti, lo ricordiamo, sono Taverne, Croce e Pareti Pucciano, anche lì interventi di riqualificazione urbana. Pareti Pucciano comprende pubblica illuminazione, marcia a piedi, sistemazione della viabilità e dei sottoservizi, dunque con un po' di pazienza avremo pian piano ogni pezzo della città che si ricompone nella grande luceria che vogliamo costruire insieme.